Il re Davide, quando si fu stabilito nella sua casa e il Signore gli ebbe dato riposo da tutti i suoi nemici, disse al profeta Nathan, vedi io abito in una casa di cedro mentre l'arca di Dio sta sotto i teli di una tenda. Nathan rispose al re, va, fa quanto in cuor tuo perché il Signore è con te. Ma quella stessa notte fu rivolta a Nathan questa parola del Signore. Va e dia al mio servo Davide, così dice il Signore, forse tu mi costruirai una casa perché io vi abiti? Io ti ho preso dal pascolo mentre seguivi il gregge perché tu fossi capo del mio popolo. Fisserò io un luogo per Israele. Il Signore ti annuncia che farà a te una casa. L'esperienza di Davide è nota. Dio stesso lo aveva chiamato dal pascolo mentre era stato trascurato dai suoi stessi fratelli e da suo padre. Era stato Dio a essere con lui quando doveva compiere delle imprese nelle battaglie, nella guerra, fino a farlo diventare Dio stesso capo del popolo di Israele e unificare le tribù, costruire il regno, il regno di Davide. Dio è il soggetto, le opere compiute da Davide hanno Dio come protagonista e Davide avrebbe dovuto vivere la sua vita con riconoscenza in attesa delle nuove indicazioni di Dio, dei nuovi appelli e rivelazioni di Dio. Invece si abitua molto in fretta a fare il re. Compie opere a partire da se stesso fino alla costruzione della sua reggia fatta con materiale molto prezioso. A questo punto, forse a motivo di un'illuminazione o forse semplicemente perché pentito, si accorge che Dio è rimasto fuori dalla sua casa e forse da tutte le case di Gerusalemme, forse dal regno stesso che Dio con lui, con Davide, aveva costruito. Dio è rimasto sotto una tenda. Dio non è solo fuori dalla mura della città o fuori dalla casa degli abitanti, ma forse è rimasto fuori dalla vita, dalle intenzioni, dei pensieri, dei desideri di Davide e della sua gente. Allora Davide decise facciamo una casa anche per Dio. Il profeta Nathan dice molto bene la tua intuizione è molto giusta, corrisponde certamente alla volontà di Dio, ma nella notte stessa Dio blocca Nathan e smentisce il profeta e dice no, la mia casa non può essere costruita in aggiunta, come un di più, come un ornamento, un abbellimento, quasi che tutto fosse già compiuto dalle mani dell'uomo e poi c'è posto anche per Dio. Dio dice che l'uomo non può costruire nulla da solo, neppure la sua stessa casa e tantomeno può costruire una casa per Dio. La vera casa, il vero uomo, la vera umanità, la costruisse sempre e ancora Dio stesso e sarà il suo figlio Gesù. Allora dall'altra parte della liturgia di questa quarta domenica di avvento abbiamo la figura di Maria. Il figlio nato da Maria dispone una casa per Maria stessa che l'ha generato come figlio, che gli ha dato un'abitazione qui sulla terra. Lui è la casa di Dio per gli uomini. In un certo senso Gesù è un figlio impossibile, non è opera umana, viene da Dio stesso e Maria che è la piena di grazia, quindi è ospitale nei confronti di Dio, è già abitazione aperta ad ospitare Dio, è turbata. L'irruzione di Dio nella sua vita le suscita anche del timore. Anche lei ha bisogno di un angelo, di un annuncio, di una rivelazione, di una parola nuova, di una parola che venga da Dio stesso. I suoi pensieri non bastano, neppure lei basta a se stessa pur essendo la piena di grazia. Allora Maria consegna questo suo turbamento o questa sua incapacità di produrre qualcosa a partire da se stessa all'opera stessa di Dio. Con questa consegna accade la cosa più bella che è caduta nella storia, che Dio può di nuovo avere una casa in mezzo agli uomini, ma questa casa è il figlio stesso di Dio ed è costruito dalla opera della grazia, ma anche dalla presenza e dalla partecipazione di Maria. Perché? Perché Maria, che è la piena di grazia e che lascia sempre accadere nella sua vita nuovi avvenimenti, nuove irruzioni di grazia, scopre che la grazia non mortifica l'umanità, la sua umanità, ma l'arricchisce, la trasforma. E allora quello che scopriremo in noi, intorno a noi, sarà sempre l'avvenimento della grazia e non lo sentiremo come estrinseco, come altro rispetto alla nostra vita, ma quello che più le conviene le corrisponde. Tutto è grazia, la grazia non mortifica, anzi esalta all'umano, quando l'uomo ospita la grazia c'è ancora una casa di Dio, costruita dalle mani stesse di Dio, che costruisse le case degli uomini.